Per delega del procuratore distrettuale di Napoli si comunica che i militari del gruppo carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di cinque persone gravemente indiziate a vario titolo dei riassi di estorsione e usura aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camoristico Gionta operante del comune di Torre Annunziata e zone limitrofe. In particolare gli indagati avrebbero costretto la dirigenza di una squadra di calcio a consegnare una somma di denaro di circa 3.000 euro per consentire loro di proseguire nell'attività sportiva. Avrebbero concesso prestiti usurari ad un imprenditore del settore ittico che sarebbe poi stato pesantemente minacciato per costringere la restituzione del denaro. Il provvedimento è eseguito in una misura cautelare disposta in serie di indagini preliminari avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.